Al centro del caso Piscaia ancora l'affaire Borsello, quello trovato dagli inquirenti all'interno di un trolley nella camera di padre Graziano nella canonica di Caraffello. Il portafoglio era stato riconosciuto dalle sorelle della cinquantenne scomparsa nel corso dell'ultima udienza del processo a carico del religioso congolese, accusato dell'omicidio della casalinga di Caraffello, dell'occultamento e della distruzione del suo cadavere. Le sorelle Piscaia, che in un primo momento sentite dai carabinieri non si dissero certe dell'appartenenza del portafoglio a Guerrina, nel corso dell'udienza invece hanno affermato con certezza di aver riconosciuto l'oggetto, anche grazie al suo contenuto, un assorbente femminile della stessa marca di quelli utilizzati dalla donna scomparsa. E da adesso la difesa del religioso congolese passa al contrattacco, dopo aver definito tardiva e sospetta la testimonianza delle donne, afferma che l'assorbente trovato all'interno del borsello non sarebbe dello stesso tipo di quelli ritrovati a casa dei coniugi Alessandrini, tagliando così il filo che legava quell'oggetto intimo ritrovato all'interno della valigia di padre Graziano a Guerrina Piscaia. Intanto la prossima settimana la difesa potrebbe presentare un esposto contro le sorelle della cinquantenne scomparsa. Venerdì 19 febbraio la prossima udienza del processo in corte d'assise al frate congolese.